È stata un'emozione grandissima, ringrazio il mister per avermi dato questa possibilità. Sì, è stata una partita dura, combattuta fino alla fine, poi mi sono fatto il regalo di questo rigore parato. Però dai, sono contento così, chi non la sogna questa cosa. C'è ancora da combattere, colgo l'occasione per ringraziare i miei compagni che ancora una volta mi hanno dato la possibilità di sognare ancora. Poi non lo so come andrà a finire perché i play-off sono una lotteria, ma sicuramente ce li giocheremo fino alla fine. L'entusiasmo è lo stesso, siamo sulla stessa strada di quell'anno, quindi siamo convinti che ce la possiamo giocare e sappiamo che non sarà facile, ma vogliamo realizzare questo sogno. Io sono stato sia a Salerno che a Venezia, sono molto dispiaciuto per la situazione di queste due squadre. Non se lo meritano perché sono delle grandissime società e mi dispiace. Adesso non so come andrà a finire, ma faccio un grandissimo in bocca al lupo entrambe.